ciao buonasera buonasera a te buonasera a tutti ben arrivati ben trovati una nuova diretta questa sera spero di non avere problemi di connessione che invece qualche minuto fa mi sembrava di avere questa sera parliamo di un argomento gettonatissimo vai che qualcuno lo vedo chiedo a questo qualcuno ciao ornella ciao ti chiedo di dirmi ornella per piacere se puoi se mi sentite mi vedete perché mi sembrava di avere qualche problema di connessione ciao andrea ciao ciao elisa ciao ragazzi ciao ora ma che bello ciao anna ciao sempre bello ciao felicetta vedere che le persone che hanno cominciato a seguire il mio lavoro e che lavorano insieme a me con il video percorso hanno voglia addirittura di sentire anche queste live quando loro ne hanno disposizione di altre incredibilmente più approfondite ciao ok per cui è bello vederle qui ok connessione buona ok è davvero bello e vi ringrazio sono felice per voi che abbiate voglia di investire davvero il vostro tempo per fare qualche cosa di buono per voi per il vostro cane ciao stosi ok pronti partenza via allora l'argomento del quale vi voglio parlare questa sera è un argomento veramente gettonatissimo ecco qua ok che è l'argomento tirare al guinzaglio soprattutto in relazione al vedere un altro cane giusto mezz'ora fa mentre mi precipitavo a casa la scena tipica proprio tipica c'era un grosso cane peloso bellissimo peraltro tutto super capelloso ciao ragazze con la sua giovane proprietaria e questo cane ovviamente era un grosso cane la tirava lei leggera 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 e tutto sommato comunque se la cavano bene ok tutto fa meglio più che meno sono d'accordo e niente ad un certo punto questo grosso cane bianco con le orecchie marroni vede un barboncino barboncino timidino vicino alla sua coppia di proprietari e comincia ad abbaiare gasato come un pazzo a tirare verso il barboncino tant'è che in quattro passi sono addosso al barboncino io non ho sentito che cosa si dicessero ma sono 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 sicura che la ragazza col cane che è volata addosso all'altro gli abbia detto ah così socializzano ecco riflettiamo su questa cosa che dopo ci ritorniamo questo è l'esempio perfetto di ciò di cui ti voglio parlare questa sera voglio solo buttarti lì uno spunto di riflessione chissà il barboncino che cosa ne ha pensato io l'ho visto bene che cosa ne ha pensato il barboncino e dopo te lo racconto ok ciao vedo anche che oltre alle persone che seguono sempre ci sono ci sono delle persone nuove per cui benvenute davvero di cuore a tutte tutte voi allora come faccio sempre mi prendo sempre uno spazio di cinque minuti per presentarmi e per presentare il mio lavoro perché in questo lavoro c'è veramente tanta tanta gente improvvisata io lo dico veramente con tristezza perché è un gran peccato è un gran peccato perché questo sminuisce la professionalità di chi lavora bene è un gran peccato perché si perde l'opportunità rivolgendosi a queste persone non sapendo quale sia la loro professionalità di veramente aiutare il cane e la famiglia io sono cristiana bordoni sono un istruttore cinofilo professionista che vuol dire che questo è il mio lavoro da ormai 20 anni per me in questo lavoro ci sono degli aspetti che sono fondamentali un aspetto del mio lavoro è la competenza cioè il continuare ad imparare per poter passare a voi il più possibile il pezzo numero due che caratterizza il mio lavoro è il rispetto il rispetto del cane che parte dalla conoscenza il rispetto delle persone viviamo in un mondo di persone che urlano non è il mio modo io credo che i cani ci insegnino tante cose e il lavoro con i cani mi ha insegnato il rispetto non solo dei quadrupedi ma anche dei bipedi io trovo che sia un pezzo fondamentale il mio lavoro sono proprio le persone il mio lavoro è insegnare a te che sei il suo proprietario che è una brutta parola lo dico sempre a fare da solo ancora troppo spesso le persone pensano di portare il cane affinché qualcuno insegni al cane ma guardate che non è diverso dal pensare di portare un figlio ok è un parallelo i cani non sono figli affinché qualcun altro ce lo educhi perché non funziona così ci stai passando tanto a me sembra che abbiamo cambiato cane da due mesi a questa parte che bel feedback grazie Elsa veramente un grazie Lisa veramente un bel feedback grazie grazie professionista credo che questa sia una parola fondamentale torno al discorso diceva come pensare di delegare il crescere un figlio a qualcun altro e non è fattibile cioè queste creature vivono con noi hanno una relazione con noi la responsabilità di crescere un cane affinché sia realizzata felice affinché possa vivere bene nel mondo affinché ci ascolti è nostra è nostra di persone ecco perché il mio lavoro è insegnare alle persone ecco perché non mi vedi sgambettare su un campo di addestramento perché il mio lavoro è la tua quotidianità e non il campo di addestramento che è un luogo dove si imparano quattro esercizi e dove si socializza con altre persone ma non è il luogo se vuoi avere una relazione con il tuo cane e vuoi educarlo nella vita reale soprattutto vuoi affrontare problemi e difficoltà quasi tutte le persone che si rivolgono a me si rivolgono a me perché hanno una qualche difficoltà o un qualche grosso problema o una cosa piccola una cosa grande quasi sempre la motivazione risolvere il problema peccato peccato perché i bravi cani quelli che non creano problemi spesso non sempre ma spesso sono quelli più penalizzati perché non muovono i loro proprietari a fare qualche cosa e per me è una perdita di opportunità una vera perdita di opportunità il mio lavoro è insegnare a te proprietari a diventare la guida del tuo cane perché nel momento in cui tu imparerai veramente entrare nel mondo del tuo cane a metterti nei suoi panni a comprenderlo a creare una relazione basata sulla fiducia poi insegnargli praticamente ti sarà molto molto semplice molte persone pensano che io mi occupi solo di insegnare parti teoriche curiosa questa cosa forse perché mi vedete spesso in questi panni ma in questi panni io cerco di renderti consapevole non mi interessa insegnarti l'esercizio l'esercizio c'è ma per essere veramente efficace viene dopo e dopo ti spiegherò che cosa intendo dire il mio lavoro è questo è accompagnare le persone in un percorso di trasformazione della loro vita in relazione al loro cane e anche non in relazione al loro cane ma per tutto il gruppo questo è il mio lavoro e il web mi permette di allargare a molte più persone quello che io faccio nella quotidianità a torino dove abito da tre anni a questa parte ho cominciato un progetto che si chiama cani per amici un progetto nel quale l'obiettivo è portare consapevolezza aiuto reale alle famiglie ai cani e trasformare davvero la loro vita come lo faccio lo faccio con queste serate con dei video che ho trovato su youtube che sono dei video per cominciare a farvi riflettere e poi lo faccio nel concreto avendo creato un video percorso che letteralmente prende te persona e il tuo cane e la tua famiglia per mano dalla a alla z e ti accompagna a vivere una vita serena e felice con il tuo cane questo è il punto di tutto e molto spesso ancora oggi a distanza di tempo le persone sbattono gli occhi pensando che io con un video percorso possa accompagnare le persone realmente risolvere i loro problemi invece questo è quello che succede che cosa portano i miei percorsi e il mio lavoro uno risultati ma non te lo devo dire io vai a leggere le testimonianze di chi questo percorso lo sta facendo perché è una grande opportunità vai a vedere sul sito www.caniperamici.it alla voce dicono di me io delego a loro le mie parole ciao donata ben arrivata per te che sei alla prima serata due come faccio il mio lavoro accompagno le persone a sganciarsi da quella che io chiamo la punta dell'iceberg tutte le persone mi chiamano per un problema quasi tutte e pensano di risolvere il problema andando ad inibire il problema tira il guinzaglio cosa devo fare perché non tiri e pensano che la soluzione sia la tecnica e dopo lo vedremo insieme si concentrano soltanto lì sulla manifestazione del problema e non sanno che sotto c'è un mondo che genera il problema ed è prima del mondo che ci dobbiamo occupare io lo dico sempre immaginatevi una casa le persone si orientano sul quarto piano ma se sotto non ci sono al piano 1 2 3 quarto piano può stare su no no ma dopo lo vedremo nel dettaglio co 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 trovi tutto sul sito www.caniperamici.it questa è un'altra cosa che mi capita spesso di sentirmi dire ma è troppo caro è interessante questa cosa troppo caro per cosa hai idea di che cosa ci sia dentro questo percorso c'è tutto quello che ti serve sul cane c'è tutto quello che ti serve su te stesso c'è tutta la parte di conoscenze tutta la parte pratica girata pezzettino per pezzettino così che sia impossibile sbagliare il video percorso porta serenità alla famiglia c'è la masterclass cioè un appuntamento settimanale tutte le settimane con me e con un piccolo gruppo di persone motivate in cui io ti porto formazione ogni sacrosanta settimana ti prendo per le orecchie neanche per mano e ti accompagno letteralmente un pezzo per volta cambierà la vita il video corso questo è il costa troppo caro ci sono 15 giorni del mio supporto è tutto letteralmente tutto quello che ti serve per cui è interessante questa obiezione troppo caro posto che io posso comprendere che per qualcuno lo sia mi dispiace che sia il troppo caro che sia il pensiero quando bisognerebbe riflettere su che cosa c'è io comprendo il pensiero io non posso farlo ok mi dispiace sentire troppo caro per una cosa che veramente di grande valore per cui ci tengo a dirtelo un'altra cosa come faccio a lavorare come faccio spesso le persone mi dicono ma io devo fare gli esercizi devo fare la parte pratica mi serve qualcuno dal vero perché poi se sbaglio come fai a sbagliare perché hai veramente ogni video con cani che non avevano mai lavorato prima che fanno un pezzettino 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 ok per cui impari facendo un pezzo per volta non vedrai le solite cose che vedi su youtube con cani che hanno già lavorato che bello agata oggi la masterclass è stata fantastica oggi è il giorno il martedì nel quale io accompagno le ragazze della masterclass dico le ragazze perché siamo quasi tutte donne ma i maschi sono i benvenuti e io nella masterclass accompagno le persone a fare un lavoro su se stesse perché l'atteggiamento mentale delle persone nel lavoro con i cani è un pezzo fondamentale e poi ovviamente li accompagno nel lavoro con i cani e un'altra cosa che spesso le persone mi dicono ma poi con un videocorso ma io mi perdo no ma come fai a perderti che siamo tutte le settimane tutti insieme a spalleggiarsi l'altro è difficile ok perché ti porto queste cose perché per qualcuno è una cosa fuori dal mondo l'ipotesi di un videocorso altre persone neanche pensano che potrebbero essere aiutate da un videocorso e se invece questa fosse una grande opportunità reale io so che in giro ci sono un sacco di fregature me lo dite voi ogni giorno e se questa fosse veramente una grande opportunità di trasformazione per te per il tuo cane tutta la stessi perdendo per un pregiudizio pensaci io ti ricordo come garanzia della mia professionalità del mio lavoro che hai 15 giorni per testare il videocorso e se dopo 15 giorni non ti sarà piaciuto ti basterà mandarmi una mail per avere l'intero rimborso è bello per me fare questa cosa sperimenta l'occasione l'opportunità ti chiedo solo ovviamente di sperimentarlo questo videocorso non di sfogliare al volo così i video senza né arte né parte ok ok pronti via vi ho spiegato chi sono vi ho spiegato cosa faccio vi ho spiegato quello che posso fare realmente per aiutarvi entriamo nell'argomento della serata io tutti martedì sera vi porto un argomento e cerco di aiutarvi a entrare in questo argomento per comprendere che mondo incredibilmente sfaccettato sia quello dei cani e invece le persone pensano troppe persone pensano sia un mondo veramente banale qualche giorno fa per radio ho sentito uno speaker che diceva delle cose veramente ma banali ma banali che mi sono detta caspita siamo veramente tanto tanto indietro quindi io cerco di portarti più consapevolezza possibile così che poi tu possa decidere come muoverti l'argomento della serata è il guinzaglio e soprattutto i cani che tirano al guinzaglio quando vedono un altro cane è un argomento enorme per cui cercherò di essere semplice e di prendere i punti più importanti che cosa accade beh che i cani tirano al guinzaglio basta girarvi intorno e guardarvi intorno e vedere ce ne sono veramente tanti di cani che tirano al guinzaglio mi hanno fregato sul campo di addestramento questa è tutta altra storia grazie paola e ovviamente non è cioè la mia non vuole essere una generalizzazione io vi dico solo dipende da quello è il vostro obiettivo mi raccomando allora sul fatto che i cani tanti cani tirano al guinzaglio non credo di aver spesso parole perché è una scena che vedete vedete veramente con grande facilità io spesso sento le persone urlare ma veramente urlare no basta vicino ma veramente spesso mi capita questa roba vi devo dire che non è efficace non avete bisogno che ve lo dica io perché ve ne accorgete guardandovi intorno magari l'avete sperimentato non sapendo cosa fare pezzo numero due invece voglio fermarmi un attimo di più su che cosa accade quante volte vi capita di vedere un cane che abbaia all'altro cane e che trascina il proprietario sull'altro cane questa è una scena che capita spessissimo anche perché le persone credono di socializzare il cane in questo modo credono che lanciandosi all'incontro con altri cani nel guinzaglio il loro cane socializzi e questo è un punto veramente fondamentale grazie Elisa il videocorso rimane lì quando hai bisogno vai a leggere e a ripassare questo per me è un altro pezzo davvero importante Rosa il mio cucciolo di sette mesi quando lo porta a passeggio tira il guinzaglio da paura e sottolineo questa parola magari Rosa intendeva dire tantissimo ma questa parola paura questa parola paura mi interessa e ve la porto di nuovo dopo torno un attimo a questi cani che abbaian e si lanciano sugli altri cani con proprietari dietro pensando di socializzare provate per un attimo a chiudere gli occhi e a guardare questa scena con un filtro diverso vi riporto l'esempio che vi ho fatto prima inizio serata cane pelosone bianco con capelli marroni attaccato al guinzaglio di una ragazza che già stava tirando vede un barboncino mite timido vicino alle gambe dei suoi proprietari questo cane si gasa a mille comincia ad abbaiare e si fionda sul cane ma veramente nel giro di una frazione di secondo si è precipitato sull'altro cane ed è rimasto lì non chiedetemi a fare cosa perché poi sono entrata in portone di casa proprio sotto casa che cos'è successo in quella scena lì? la proprietaria del cane peloso probabilmente pensava di far socializzare il suo cane ma in realtà quei due cani secondo te stanno socializzando? il barboncino era così nel momento in cui il cane peloso gli è arrivato addosso ha fatto un balzo indietro e si è messo dietro i piedi dei suoi proprietari poi di lì io la scena me la sono persa ma già questo ci dice tante cose è stato un bell'incontro per il barboncino è stato un bel modo di presentarsi per il barboncino due è stato un buon modo quello di presentarsi del cane pelosone o è stato un modo veramente caffone prova a immaginarti la stessa scena anche Zeus faceva così da quando seguo il videocorso ho imparato finalmente a gestire il momento Zeus non si lancia più questo Elisa è un feedback grande grande che io vorrei portare alle persone ti ringrazio tanto per averlo scritto grande grande ciao ragazze ok proviamo a mettere quella stessa scena addosso a due persone ok prova a pensare questo è un esempio che io faccio spesso di essere in giro a passeggio con tuo marito con tua moglie e prova a immaginare che dall'altra parte dalla parte opposta a te stia arrivando un'altra persona che quando ti è più o meno vicino comincia ad agitarsi un casino ti si lancia letteralmente addosso ti mette un po' le mani addosso e poi pochi minuti ognuno se ne va per conto suo questo è interagire? questo è socializzare? questo ti è sembrato utile per te? hai conosciuto una persona nuova con la quale hai creato una relazione? o è stato un momento destabilizzante che non ha avuto nessun valore per te? prova a pensarci perché sai che non è tanto diverso da quello che succede in strada per la maggior parte dei cani due cuccioli di sette mesi rigoldano o tirano adesso cerchiamo di andare avanti su questa cosa del guinzaglio la stragrande maggior parte delle persone pensa che sia bello far incontrare i cani in questo modo poi adesso ti ho parlato nel caso specifico di un cane che abbaiava stragasato ma anche chi non abbaia ma si lancia sull'altro cane si tira dietro il proprietario ma secondo te ha un modo gentile è come se io mi presentassi alle persone buttandomi loro addosso e toccandole o come se lo facessi tu non è una bella cosa sai che la maggior parte degli incontri tra cani e al guinzaglio non ha nessun motivo di esistere nessuno perché non c'è niente di utile in quella situazione e ti dico per la maggior parte perché ci sono dei cani che invece anche al guinzaglio si presentano bene si prendono il tempo rallentano valutano io invece ti ho parlato della classica situazione nella quale un cane che è solitamente un cane di città che ha poche competenze nel momento in cui vede un altro cane si gasa talmente tanto che gli parte una bolla una botta di adrenalina o in altre situazioni una bolla d'ansia perché non sa che cosa fare e comincia ad agire in modo automatico cioè fa l'unica cosa che riesce a fare gasarsi, abbaiare e tirare ma non sta pensando a che cosa fare perché c'è una emozione così grande che lo spara fuori che non riesce a ragionare non riesce a guardare quello che gli sta dicendo l'altro se il cane di questa sera il pelone con i capelli con le orecchie marroni fosse stato un cane competente si sarebbe fermato un attimo avrebbe guardato il barboncino e si sarebbe chiesto ma allora gli va bene che mi avvicini perché il barboncino che stava così era ovvio che gli stesse dicendo senti bello te stai al tuo posto che io sto al mio ci passiamo vicini senza interagire ma lui non ha né guardato né pensato perché questo picco d'adrenalina di eccitazione di gasamente di emozioni varie l'hanno travolto per cui si è lanciato ma guardate che questo è quello che fanno ma io oserei dire al 90% dei cani che non hanno imparato una modalità diversa poi ognuno se la declina a modo suo c'è chi si spara c'è chi abbaia c'è chi anche drizza il pelo perché non sa che cosa fare insomma le modalità sono mille poi spesso anche quei cani che abbaia ne fanno casino quando hanno avuto tempo e sono vicini all'altro cane poi non è che se lo mangino però intanto quel modo lì è un modo assolutamente inadeguato ok riuscite a seguirmi sono riuscita a spiegarvi molto spesso le persone mi dicono sì sì il mio cane fa così poi però gioca sì è vero dopo un po' poi magari ringhia o dopo un po' poi magari fa questo e io tutte le volte quando le persone mi dicono così mi domando ma è possibile che le persone non pensino che quella roba lì non ha senso è un peccato per noi fortunatamente non è sempre un dispiacere Fulvia scusami mi sono perso un pezzo prima e no le persone non ci pensano perché pensano davvero di socializzare ecco io questa sera vorrei che ti fermassi a prima guardare a te stessa il tuo cane e come si comporta e come ti comporti tu e anche a guardarti intorno e a guardare che cosa succede agli altri cani ok il mio vede il guinzaglio come una punizione viviamo in campagna ha molto spazio per stare libero e quindi non è abituato al guinzaglio più che come una punizione Raffaele io immagino che proprio non si è abituato ok vai che siamo riusciti ad essere chiari fatemi solo bere un secondo perché le persone sbagliano ad affrontare il problema e a cercare soluzioni al tirare e allo spararsi sugli altri cani sbagliano sbagliano come sempre perché non sanno ecco perché il mio compito è portarti consapevolezza non sanno e si occupano sempre si orientano sempre ve lo dicevo prima su quella che io chiamo la punta dell'iceberg cioè sulla manifestazione del comportamento nel caso specifico tirare e gasarsi come dei pazzi di fronte all'altro cane per cui cercano lì di fare qualcosa vanno a vedere i video tutorial su youtube che propongono quattro esercizi ok oppure qualcuno va al campo d'addestramento a fare l'esercizio del piede ma quella roba lì nella vita reale è assolutamente impossibile non ha nessun valore ve lo sto raccontando che cosa dovete fare vi sto raccontando che cosa succede e poi vedremo che cosa possiamo fare ok mi sono persa sì vi dicevo che le persone si orientano su lì e cercano la soluzione lì invece per riuscire e qui posso rispondere a Gianna che cosa dobbiamo fare per riuscire a risolvere il problema dobbiamo andare più sotto io vi ho spiegato che quando la maggior parte dei cani si comporti in questo modo gli parte questa botta d'adrenalina o parte questa enorme bolla d'ansia aspettate è normale che un cane molto grosso si avvicina a Frida il suo proprietario gli si rivolge dicendo è piccolo non lo vedi che è piccola quasi come se la colpa fosse solo del suo cane io credo io credo che i proprietari abbiano delle frasi veramente stereotipate e forse dire al proprio cane ma no dai che piccolina sapendo che il loro cane si lancerà mille li alleggerisce un po' dal senso di colpa e un po' il quietare l'altra persona appunto torno a dovero allora questi cani che si sparano l'adrenalina sono una bolla d'ansia il cervello non riescono ad usarlo per cui è inutile che le persone cercano di risolvere il problema a quel livello lì dicendo no poi ognuno ha la sua ok idem sul guinzaglio e andare sotto allora le persone si concentrano sul problema quindi sul problema cercano la tecnica la tecnica le trovate mille su youtube mi fermo la tecnica è tieni un pezzo di cibo in mano la tecnica per qualcun'altra dai uno strattone ma se un cane tira il guinzaglio un motivo c'è ti faccio degli esempi banali se un cane tira il guinzaglio perché è pauroso la paura lo paralizza per cui c'è un'emozione enorme sotto quella punta dell'iceberg possiamo lavorare su un guinzaglio senza esserci occupati di tutto quello che c'è sotto no perché non otterremo nessun risultato se un cane tira perché è stragasato questo succede spessissimo ok uno di quei cani con un sacco di energia bisogno di fare un sacco di attività psicofisica sei in questa situazione qui ma noi possiamo usare la tecnica che ogni 5 passi ci fermiamo per insegnare di non tirare il guinzaglio no perché diventerai scemo ok passami il termine perché quel cane è talmente gasato che non riuscirà mai a lavorare con te sulla tecnica perché in quello spazio lì è travolto dall'emozione tanto quanto gli altri oppure quei cani che mettono il naso per terra e non lo tirano più su per nessun motivo che non si filano il loro proprietario per nessun motivo ma possiamo lavorare sulla tecnica no perché non c'è lo spazio per lavorare lì questa è la punta dell'iceberg prima qualcuno mi chiedeva cosa devo fare ti devi occupare di quello che c'è sotto perché questi problemi si affrontano a volte si risolvono altre volte si gestiscono ma possiamo cambiare la vita da così a così a queste persone a questi cani però non stando lì ma andando qui sotto per poi arrivare qui alla punta dell'iceberg ma partiamo dalla base di questo iceberg e poi ci mettiamo un pezzo un pezzo un pezzo e un pezzo quindi che cosa fare un consiglio mi piacerebbe poterti dare il consiglio magico il consiglio è serve un cammino un percorso chiamiamolo come vogliamo un percorso che ha delle tappe punto di partenza ok il punto di arrivo è riuscire a passeggiare insieme e a non fare casina non spararci sugli altri cani ecco direi che questo è l'obiettivo che cosa ci serve realmente per arrivare a questo obiettivo ci servono diverse cose la prima cosa che ci serve è comprendere profondamente il nostro cane qual è la sua genetica quali sono le sue vocazioni di razza perché si ha delle vocazioni molto importanti sulle vocazioni abbiamo fatto una live un po' di tempo fa come la vocazione esplorativa cani che sono portati a mettere giusto nasa ad esplorare tutto se non andiamo a lavorare un po' su quella motivazione lì poi ci sarà difficile il resto se un cane è geneticamente uno di quei cani che ha bisogno di fare tanta tanta attività fisica e ne sta facendo la metà ci manca un pezzo enorme per arrivare qui per cui dovremmo occuparci anche di quello i cani hanno dei bisogni fondamentali che l'80% delle persone ignorano e anche di questa cosa abbiamo già parlato in altre live sono dei bisogni che devono essere soddisfatti e se le persone non permettono al loro cane di soddisfare i bisogni quel cane non sta bene non è in equilibrio e non riesce a comportarsi bene se voi non conoscete non rispettate i bisogni di un cane non riuscirete mai a risolvere veramente le cose potete tappare dei buchi ma uno non risolverete i problemi e due soprattutto non avrete un cane felice appagato e questi per me sono due punti ugualmente importanti tre se non c'è una relazione con questo cane se non si appoggia voi se non siete la sua guida le probabilità di risolvere un guinzaglio sono basse soprattutto con i cani che tirano poi ci sono i cani babbioni che io amo tanto però sono proprio un po' babbioni che vanno in giro così tutti un po' curvi tutti un po' ciondolanti ok che non tirano il guinzaglio ma nel 95% dei casi quando un cane tira il guinzaglio se non c'è una relazione di fiducia con il suo proprietario risolvere il problema è difficilissimo ok che cosa ci serve ancora? ci serve comunicare con sto cane perché sembra una cosa così sciocca ma se il tuo cane non ti capisce e tu non capisci lui ti manca un pezzo grosso come una casa e non è facile è facile comunicare col cane ma non è facile sapere come si fa ma basta imparare Raffaella scrive quindi fondamentalmente se cambiamo noi riusciremo a gestire i nostri cani voi Raffaella voi siete un pezzo fondamentale del puzzle io lo dico tutte le volte nel mio percorso nella masterclass le persone sono un pezzo fondamentale il loro modo di relazionarsi con il cane il loro modo di relazionarsi col mondo il loro atteggiamento mentale è un pezzo grande però è un pezzo di quel cammino capite che il motivo per cui vi dico sempre non c'è il consiglio magico perché è un percorso a 360 gradi che veramente cambia le cose e non immaginatevi che sia una roba enorme però ci vogliono diversi tasselli perché poi tutti insieme fanno un puzzle pazzesco e mi permetto di dire veramente un puzzle pazzesco prese soltanto uno per volta perdono di valore ok grande Daniela meglio tardi che mai ben arrivata decisamente sto cambiando io e sta cambiando Zeus guardate che il vostro cane chiaramente è un pezzo grosso ma anche voi siete un pezzo grosso ok mettiamo che quando il mio cane tira si lancia verso l'altro cane io lo strattono via il rischio non è di alimentare ancora di più la sua rabbia verso gli altri cani mi raccomando io non ho parlato non ho assolutamente detto di strattonare il vostro cane e di portarlo via ok questo ci tengo a dirlo ok se si fa si fa bisogna sapere cosa fare purtroppo le persone sottovalutano il fatto che non si sappia che cosa fare perché davvero c'è poca informazione youtube è pieno di video tutorial pieno che vi propongono delle tecniche immagino che le abbiate già provate se non hanno funzionato il motivo è questo perché vi mancano tutti gli altri pezzi prima vi dicevo considerate il tirare al guinzaglio come il quarto piano del palazzo il lanciarsi sui cani in quinto piano non possiamo lavorare partendo dal quarto e quinto piano dobbiamo metterci i piani sotto l'uno il due il tre ok con quello che vi dicevo prima con il cammino che vi dicevo prima Olaf un pastor australiano ogni volta che vede un cane si gasa a mille questo è un classico ogni volta che riesce a stare calmo lo premio e gli dico bravo ogni tanto aspettate che cerco di leggere poi vi voglio ancora dire delle cose ogni tanto funziona ogni tanto no adesso cerco di darvi delle indicazioni concrete dei piccoli pezzettini che potete fare il mio è abituato a lanciarsi che cosa fare adesso io vi darò delle indicazioni ok però spero che ascoltiate le mie parole ok è fondamentale che siate consapevoli che non c'è che il magico consiglio tappa il buco ok ma non è la soluzione perché è questo quello che serve questo è l'unico consiglio che in scienza e coscienza con l'obiettivo di aiutarti veramente ti posso dare dico ti ed è ed è generico eh grande Eleonora ok sono contenta ok 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 allora fatemi andare avanti spero sia chiaro che servono tutti questi pezzi spero sia chiaro perché non ci possiamo concentrare sulla punta dell'iceberg questo percorso cambia il nostro modo di vedere le cose ed automaticamente cambia anche loro è esattamente così Paola anche la tua è una bella testimonianza Paola ha un Australian che era veramente una teppa sono soddisfattissima grande Paola mi sembra ancora irreale pensando a come iniziato anche a me sembra irreale pensando a tutti i casini che faceva Sheila e tu sei la testimonianza vivente che occuparsi dei bisogni della comunicazione della relazione sono i pezzi fondamentali adesso allora il consiglio vero è buttati in un percorso se vuoi risolvere il problema perché come ti dicevo prima il problema si risolve e si gestisce e o dipende da le situazioni ma si trasforma sempre la situazione dandosi da fare chiaro che io ti posso guidare ma tu devi fare ok questo è l'unica cosa che ti chiedo agire questo è quello che serve veramente questo è quello che troverai nel video percorso nella masterclass dei consigli concreti come faccio ogni lunedì per darvi dei pezzi sui quali lavorare tre consigli pratici e concreti uno anche se ti sembreranno delle cose lontane pensa a quello che ti ho detto qui in questo spazio è inutile che ti dia dei consigli perché lì non ne cadi un fico secco tempo perso andiamo qui sotto ok allora pezzo numero uno per tutti i cani aumenta l'attività fisica io sono nella masterclass dove ci sono cani molto problematici grazie a Cristina stiamo crescendo insieme ai nostri cani io riesco a passeggiare con il mio otto grande Emanuela anche otto ho fatto su un gruppo di cani teppisti uno aumenta l'attività fisica del tuo cane che cosa vuol dire vuol dire che tre volte alla settimana prendi metti il tuo cane in macchina e lo porti in uno spazio verde lo porti nel bosco lo porti in campagna porta in un parco urbano che sia un grande parco urbano non un fazzolettino se puoi se ti fidi se il contesto lo permette lascialo libero non puoi non ti fidi se il contesto non lo permette compra una corda di 10 metri legalo con una corda di 10 metri e lascialo strusciare per terra così come se fosse libero tre volte alla settimana un'ora di parco e di verde già abbasseranno incredibilmente il livello di stress del tuo cane gli porteranno benessere e già soltanto questo che sembra non centrare niente aiuterà il tuo cane a migliorare il suo comportamento 2 ogni giorno che Dio manda in terra lavora 20 minuti sulla ricerca olfattiva sull'esercizio di cerca se non sai che cos'è vai sul sito www.caniperamici.it a scaricare i tre video gratuiti in uno di questi video gratuiti trovi l'esercizio perché questo è un esercizio del cercare insegna dal tuo cane fallo tutti i giorni 20 minuti cosa c'entra questo con il tirare il guinzaglio? c'entra perché è un tassello del nostro puzzle è un tassello che permette di lavorare con il tuo cane di creare relazioni con il tuo cane di lavorare sulla collaborazione di cominciare a creare una relazione di fiducia chiaro che è cominciare però è un inizio pezzo numero 3 per i cani che abbagliano agli altri cani e si gasano come dei pazzi sappi che ogni volta che lo fanno imparano a farlo di più e meglio è letteralmente un allenamento ok te lo metto tra virgolette è un po' come una droga ok che più ne prendi più ne vuoi allora il primo gradino è cercare di cani matti e proprietari è peggio e poi col percorso è ancora peggio ecco fantastico grande Elisa sono d'accordo aspettate solo un attimo allora l'unico consiglio consiglio che ti posso dare al volo cerca di mettere il tuo cane il meno possibile in queste situazioni in cui si agita come un pazzo all'incontro con gli altri cani per cui scegli contesti che siano più semplici e lavora sulla distanza ogni cane ha una distanza alla quale distanza dall'altro cane alla quale riesce a non farsi partire la botta d'adrenalina adrenalina ansia eccitazione eccetera ok questa è l'unica cosa sensata che puoi fare lavorare sulla distanza affinché il tuo cane non vada in palla se hai già andato in palla le orecchie tappate tutto tappato non puoi fare più niente in questo momento ok eh ma è difficile ma io alla macchina non ce l'ho non posso portarla al parco eh ma come faccio lo dico sempre il mio grande maestro mi diceva se vuoi puoi trova il modo di organizzarti chiaro che questo è un piccolo gradino ma è già un piccolo gradino che permette di cambiare delle cose e ci succederà centomila volte che gli altri cani ci verranno addosso chiaro che noi non possiamo fare niente siamo gentili respiriamo evitiamo di finire noi addosso agli altri poi se vogliamo veramente cambiare le cose ci buttiamo in un lavoro otto settimane di videopercorse masterclass non mi sono mai sentita sola o incapace questo Tiziana guarda un altro grande grande feedback io credo che molte persone abbiano paura di non riuscire sempre presente precisa e pulita nel parlare grazie mille meno male che abiti in campagna qui nessuno mi vede e mi sente grandissima quindi hai tre consigli strategici da mettere in atto subito hai l'opportunità di fare veramente qualcosa io ci sono il videopercorso c'è se sei su Torino ci sono è un'opportunità reale di fare qualche cosa vai a vedere se non sai di cosa stia parlando sul sito www.caniperamici.it Alessia l'area cani cercate di non usarla come unica opportunità invece le persone tendono a usare l'area cani come unica opportunità quando potete per me queste tre volte sono nel verde a lasciare andare tensione ok se avete domande sul videopercorso siete perplessi su qualcosa mandatemi una mail all'indirizzo www.caniperamici.it che è la mail alla quale rispondo io portatemi i vostri dubbi permettetemi di rispondere ai vostri dubbi non scartate l'opportunità a priori perché avete paura della fregatura perché veramente potrebbe non essere una fregatura riesci a valutare che potrebbe essere una fregatura non essere una fregatura anche se in giro ce ne sono tante prova scrivimi ricorda che avete la garanzia di 15 giorni soddisfatti rimborsati questo è quello che io posso fare veramente per aiutare cani e persone spero sia chiaro anche alla fine di questa nostra serata che è impossibile per me dare un consiglio ok perché le cose si possono risolvere così questa è un'altra cosa che dico sempre le persone mi domandano ed è lecito che lo facciano il consiglio perché non hanno idea che mi stanno chiedendo di aiutarli a risolvere le equazioni e io non posso insegnarti a risolvere le equazioni se prima non abbiamo fatto la matematica ok ecco perché non posso dare delle indicazioni diverse Alessia il mio cane vede la pettorina e scappa ci sono molti cani che sono in difficoltà con il mettere la pettorina poi quando ce l'hanno addosso vanno sulla pagina facebook di cani per amici e sulla pagina youtube di cani per amici trovi un paio di video sull'argomento il cerca possiamo farlo anche a casa Alessandra va bene tutto fatelo dove volete il cerca l'importante che siano 20 minuti tutti i giorni non è assolutamente una fregatura qualcuno lo pensa davvero grande Aura grazie per la risposta ok ancora una cosa c'è il gruppo di cani per amici è richiesto per entrare nel gruppo di rispondere a tre domande che portano via credo 30 secondi della vostra vita non sto più facendo entrare a nessuno che non risponda a quelle tre domande il gruppo è aperto a tutti ma il gruppo è casa mia ti chiedo per entrare di rispondere a tre domande mi sembra lecito che il padrone di casa possa chiedere tre cose ma tre cose veramente banali leggi il regolamento hai visto il video gratuito sì o no e puoi presentare te stesso il tuo cane chi non avrà neanche voglia di rispondere alle domande evidentemente non sarà la persona giusta per stare in questo gruppo in cui c'è rispetto per tutti e io credo sia rispettoso nei miei confronti semplicemente rispondere alle domande e ci sono persone che hanno voglia di fare se non hai neanche voglia di rispondere a tre domande forse non è il gruppo per te ok detto ciò siete tutti veramente i benvenuti ok non abbaglia i cani più grandi quando hai il guinzaglio ci sono molti cani che discriminano ok per cui sarò rigorosa su questa cosa delle domande degli accessi al al gruppo allora detto ciò anche per questa sera credo di avervi sganciato un paio di bombe rifletteteci e guardatevi intorno soprattutto sull'incontro tra cani ok grande Angela cambia il tuo cane cambi tu impari ad essere felici insieme al tuo cane questo è davvero un grande un grande grande nuovo feedback per me il mio impigrono non vuole uscire bisognerebbe capire che cosa c'è dietro se il cane tira meglio la pettorino il collara strozzo Alessia trovi diversi video gratuito sull'argomento sulla pagina di youtube per me il collara strozzo è deontologicamente inutilizzabile per cui io non lo faccio usare a nessuno delle persone con le quali lavoro ok io uso sempre il collare oppure la pettorina ok poi devo dire che ci sono cani che non tirano per un tubazzo per cui cambiano il collara strozzo mia nonna mia zia non cambia assolutamente niente però è uno strumento che io non uso ok e non è lo strumento quello che determina il tirare o non tirare e tutti insieme il cane la genetica la relazione il lavorare sui bisogni è il solito puzzle di prima per cui non vi focalizzate sullo strumento ok ok il collare a strozzo dovreste provarlo io l'ho provato e la cosa più terribile del collare a strozzo è che quando si chiude di colpo perché si chiude di colpo per centomila motivi ti blocca l'aria che sta entrando ti crea veramente una situazione di soffocamento ok e le persone mi dicono sì ma io lo so usare bene provaci ok non voglio aggiungere altre parole non voglio entrare in polemica provalo provalo una volta e poi ti renderai conto di che cosa vuol dire il collare a strozzo ok ok direi che ci siamo grazie 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 a tutti voi che davvero investite sempre il vostro tempo grande Elisa vado a vedervi la puntata della masterclass esci Elisa esci lo guarderei in un altro momento però ti basta ascoltarlo con le cuffiette ci vediamo la prossima settimana io vi ricordo solo se avete bisogno di una mia consulenza di usare l'indirizzo caniperamici chiocciolina gmail.com e di andare a vedere sul sito le varie opportunità che ci sono e ricordati se hai dubbi sul percorso avresti voglia di farlo ma c'è qualche cosa che ti ferma prova a chiedere a me dai a te stessa e a me al mio lavoro un'opportunità davvero di aiutare anche te ok ok ci vediamo martedì della prossima settimana grazie grazie a tutti voi di essere stati qui con me anche questa sera ciao ciao